Cade l'amministrazione comunale di Silvi. Stamani nove consiglieri comunali hanno firmato contestualmente le loro dimissioni da componenti dell'assise civica. Essendo la metà più uno del Consiglio, queste firme fanno decadere il Sindaco e tutta la Giunta. Nei prossimi giorni sarà nominato il commissario prefettizio che traghetterà il Comune fino alle elezioni comunali dell'anno prossimo. E il culmine di una crisi esplosa dopo l'approvazione del piano regolatore contestata dal gruppo di maggioranza Silvi 2024 che subito dopo ha deciso di togliere il sostegno al Sindaco Comignani con due consiglieri passati all'opposizione e il solo vice sindaco Partipilo rimasto a sostegno della maggioranza. Stamani a firmare sono stati i due consiglieri di Silvi 2024 del Vecchio e Pelusi, sei consiglieri di minoranza Cassone, Disidoro, Marini, De Marco, Mazzone e Valeriani. La nona firma è stata quella del consigliere di maggioranza Arlini che è stata fatale per la giunta Comignani, la cui esperienza si chiude dopo circa tre anni. Un'amministrazione priva di un progetto politico credibile e incapace anche di governare gli equilibri interni alla maggioranza stessa, dichiarano due dimissionari, Michele Cassone ed Enzo Disidoro del movimento civico Silvi Bellissima. Secondo Del Vecchio di Silvi 2024, da oggi comincia, per quello che ci riguarda, un percorso nuovo alternativo al centrodestra e all'attuale PD. Comignani, fuori città, ha così commentato, siamo in democrazia e in democrazia si prende atto di quelle che sono le regole del gioco. Quanto ad Arlini è stata una doccia fredda, non me l'aspettavo. La variante al PRG era un atto di rispetto verso tutti quei cittadini che erano stati presi in giro negli anni passati. Se a farmi cadere è stata l'approvazione della variante, ne sono orgoglioso.